Skylight e Juicy Consoli presentano 31 dicembre 2013 Capodanno Skylight 3 colori 3 situazioni White Red Black Ultimo Skylight dell'anno 3 colori 3 situazioni musicali 3 speciali Live Queen 3 Aquaboy's Competition e G-Party Foli Martedì 31 dicembre Capodanno Skylight Dalla mezzanotte e mezza in poi Special price 15 euro Skylight Bianco Rosso Nero Quale migliore alternativa?